Sì, allora, finisce appunto con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di questo iter autorizzativo del piano attuativo in variante urbanistico che vede come proponente la Zucchetti Centro Sistemi. È una variante che si pone appunto nel nostro asse industriale di Valvigna, in particolare in una zona che era stata pianificata negli anni 60 e che presentava anche segni di degrado e standard urbanistici non più attuali. Oggi con questo intervento andiamo appunto a riqualificare tutta quell'area con l'introduzione di due nuovi fabbricati appunto produttivi da parte della Zucchetti Centro Sistemi che avranno vita in due stralci, il primo di circa 4.800 metri quadri che si allinerà con quello già esistente e l'altro di circa 5.700 metri quadri strapposto anteriormente all'area. Siamo soddisfattissimi di questa operazione perché ancora una volta c'è fiducia nella nostra amministrazione, c'è collaborazione con un grande gruppo e appunto la Zucchetti e è un interesse che non va solo sul Comune di Terra Nuova ma un interesse appunto su tutta la vallata vista anche le dimensioni di dipendenti che sono all'interno dell'azienda stessa e le prospettive future. Questo raggiungimento degli obiettivi, eravamo prefissi appunto all'inizio della legislatura, di cercare di potenziare il prima possibile e il più possibile il nostro settore industriale e su questa direzione stiamo decisamente andando bene. Ringrazio di presto tutti gli uffici per la loro celerità e per la loro professionalità. C'è ancora la possibilità e stiamo portando avanti di utilizzare autoreali che stiamo appunto a breve verranno anche queste in consiglio comunale proprio per l'attenzione di andare a chiudere tutta quella striscia appunto produttiva che è lungo tutta la Valvigna che va dal Bartolini fino a Prada stessa.